Come? Vareschichino. Età? 1942, 68 anni, 69 anni. Professione? Meccanica. In che ramo? Moto. Moto, marca? Guzzi. Sempre fatto solo Guzzi? No, dal 60 al 70 ho fatto parecchie macchie. Quando andavo male, a Diotoro sono tornato da Militare nel 63, ho trovato dentro il primo C. Ho fatto il scooter per 8 anni, fino agli anni 70. Adesso solo Guzzi? Solo Guzzi, dal 70 in poi solo Guzzi. Una scelta di tipo affettivo? Sì, da ragazzino, da quando è incominciato, era concessionario di Guzzi. Sì, è una cosa, sì. Effettivo, innamoramento. Moto di serie o moto da gara? Moto racing? Moto racing. Preferenze di cuore tra gare e produzione? Diciamo, la moto da gara è una passione che ti trasmette, per me è un complemento di un meccanico che fa la professione. E avere qualcosa di sportivo, da poter portare in gara, porti un'anima tua, dai del tuo. Ma è vero che le Guzzi stradali si rompono, vanno male? No. Da dove nasce questo mito negativo? Non lo so, da gente forse che, noi abbiamo le concorrenze che ci sparano addosso, io non ho mai sparato dietro nessuno. Io rispetto Yamaha, Honda, allora la Gilea, quello che è sempre stato. E' un marchio che c'è, è 90 anni che esista, è 90 anni che si fa rispettare. Io ho fatto migliaia di chilometri, ho fatto 180 anni, ho tirato con i miei figli dei miei figli, i miei figli sono nati in Saideka, non con macchina, ferie non ferie, se non sono mai rimasto pieno. Ho girato mezza Europa, con pochi soldi, prendendo solo mandare da casa. Mio amore che facchina, ho fatto Caponor, di Arlanda, ho girato mezza, sono tutta l'Europa, non sono mai rimasto pieno, mai uno a voi. Torniamo alle gare, pilota preferito? Agostini. Giacomo Agostini. Categoria preferita? Gp. MotoGP. Guzzi preferita? La moto che preferisci, MotoGuzzi, mi piace più, preferita nella storia? La mia? Lo Sporti. Sporti? Lo Sporti. Di che anno? Il mio è il 72, è favoloso, ho fatto tanti chilometri. I tuoi figli sono due piloti, se dovessi preferire meglio una vittoria di Ducati con Vittoriano come team manager o un trofeo Rollster Cup Super Twins vinto da quale? Ma io direi la pari. E' una cosa che mi ha fatto noia, ed è il figlio più giovane. L'altro è un coronamento, una cosa che è cresciuta con la passione di Vittoriano. E ne gioisco molto io con la vittoria di Ducati. Cioè è una parte italiana, la moto italiana, fa parte della nostra storia. Io lo dico. Che poi le dico. Io tornando indietro, ho riparato molti anche Ducati. Ecco, quel periodo, quando ho sentito i Scrambler, c'erano i primi Sport, tre e mezzo. Ne ho fatti tanti. Infatti la fotografia che ha avuto lei, il fotocicliente, che sono io sul ponte, c'è il Ducati 125, che ne ho riparati in quel periodo parello. Moto Guzzi, qual è la moto che vorresti che Moto Guzzi facesse? Io vorrei una sportiva turistica, tipo come c'era l'Enduro, come c'era l'Enduro, che è capito molto dai nostri comuni, una sportiva da turisti, ma una vera sportiva di razza. L'Enduro ce l'abbiamo già, l'Enduro ce l'abbiamo. Non ci manca quello che ci ha fatto noi, la rete di una sport, o dei limansi, perché l'Enduro ce l'abbiamo, è sportiva. Un saluto per gli amici elettori di motociclismo. Un saluto per gli amici elettori di motociclismo. Un ringraziamento. Io li ringrazio, una bellissima giornata. Io sono una persona molto gioiosa, quando la gente, capisci il motociclismo, io sono un motociclismo, lo sento col cuore e non ho parole per ringraziare.